Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash ed oggi siamo tornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus Anzi no, facciamo una challenge Chiudo gli occhi e premo a caso fino a che Solar System, Solar System Sia Se non sbaglio l'avevo già fatto in passato, però ero morto, quindi GG Ah, ok, e si, giusto, 1YMPLY2J Molto molto bene Eh, vabbè, stiamo andando velocissimi Full Earth, ok Già il boss Se non sbaglio non ci sono le item room, ma posso sbagliarmi Ok, GG, molto semplice Inoltre, ah è vero, un damage up, ma per cosa? Non è che ci serva molto il damage up Eh, comunque, ok, prima di tutto ci siamo finalmente anche tolti la La, il quesito se c'erano o meno le item room Eh, la risposta è no, non esistono Pillola buona? Non molto buona Le ho alza la pena? Non molto Amen Ok, comunque Accidenti, forse è il primo piano più veloce che abbiamo mai fatto Forse è un po' esagerato Però probabilmente sta lì Comunque Eh, no, devo ammettere Ecco, c'è una cosa di cui volevo parlare E questa cosa è Eh, The Binding of Isaac In generale Allora, ci sono un paio di cose Che vorrei, di cui vorrei tanto parlare Di questo gioco Allora, prima di tutto Devo ammettere Che Mi sto iniziando Un po' ad annoiare Su questo gioco Il fatto Cioè Mi piace un sacco il fatto Eh Di dover rifare di nuovo il salvataggio E questa cosa non la trovo esattamente noiosa Però dico proprio In generale Ho passato Ho passato in questo gioco Tipo Cos'è? Ormai Quasi 600 ore Ed è Uh, attenzione Ed è normale Secondo me Che dopo così tanto tempo Uno si possa annoiare E Allora Vi dico solo subito questa cosa Tranquilli Con questo non voglio dire che Isaac se ne andrà da qualche parte No, rimarrà qui Però volevo solo Stavo solo pensando Che magari Eh Potrei cambiare lo schema E non dare così tanta priorità ad Isaac Una cosa che Prima facevo Ad esempio C'è molta gente Che inoltre apprezzo un sacco Eh Ho apprezzato anzi un sacco Eh C'è stato un sacco di gente che Eh Sul video di Enter the Eh no Eh di Nuclear Throne Ecco Eh Tutti Lo hanno amato E questa cosa mi fa felice Perché Eh Tra le cose che avevo chiesto era Se volevate una serie Ora però Ovviamente con una serie nuova Bisogna anche decidere di Bisogna anche capire Dove E come dargli Spazio Nella Nella lista Dei Eh Dei giochi che porto E ovviamente Dato che non voglio Almeno Eh In questo periodo Soprattutto quel periodo scolastico Che Uno dei motivi per cui inoltre anche Non sono più così tanto attivo su Discord E sul gruppo Discord Che Appunto Eh Tra l'altro Vi consiglio di unirvi E non sono così però Così tanto attivo su Discord adesso È perché Mi sto concentrando molto Sullo studio E in pratica Quello che riesco a fare Praticamente È solamente Eh Studiare E magari fare La registrazione dei video Queste sono Più o meno Le cose Con cui In cui Cerco di fare Almeno Nel modo migliore possibile E Cercando di Non saltare nessuna giornata Certo Non può sempre Non potrà sempre andare Per il verso giusto Però Ehi Cioè Anch'io ho una vita Incredibile ma vero Oh Oh Fantastico Qua c'è sicuramente La secret room E sarebbe fantastico Ottenere la mappa Grazie mille amico E questo Posto fa schifo Però questo è un dettaglio Però posso fare un'altra cosa Ora che ci penso Ovvero Posso Passare per di qui Magari riesco ad ottenere Anche due monete O steam sale Che tra poco prendo Perché ho missato Veramente male Troll bomb Per favore Ah Mai una troll bomb Quando ti serve E vabbè Ah Ok Eccole qua Le bombe E anche un lock up Fantastico Steam sale Grazie mille Nance habit Non ho neanche un oggetto attivo Quindi non credo sia molto utile Anzi forse è molto più utile Vedere se lui Ci droppa qualcosa di buono Tipo anche subito Due di cuori Questo è molto buono Ok Droppaci subito qualcosa per favore Death stars Molto inutile Una chiave Anche questa non molto utile Ok HP up Lo accetto più che volentieri Soprattutto perché Tanto posso anche Uh Fantastico Proprio È andata benissima È andata benissimo Quella secret room Ok Però ora possiamo scendere Comunque Stavo dicendo prima Ehm Sono davvero felice Di aver visto Quelle reazioni Su Ehm Su nuclear throne E quindi Appunto Lo porterò Sul canale Come una serie Possiamo dire Semi fissa Probabilmente ci sarà Un episodio A settimana O magari due Potete anche dirmelo sotto Qui nei commenti Se Vorreste Molto probabilmente Sareste più Ehm Avreste più Probabilmente avrete Molta più voglia Di vedere Ehm Di vedere Enter No Enter the Gungeon Scusate Di vedere Isaac Più che nuclear throne Dato che appunto La mia community Praticamente si basa Soprattutto su Ehm Soprattutto su Isaac Anche perché È la serie Possiamo dire Dove ho faccio Dove ho fatto Più visualizzazioni Se non contiamo Quello Stupido video Su minecraft Che avevo fatto Che ha ricevuto Un bordello Di visualizzazioni Però questo Possiamo dire Sono dettagli Ah beh Oltre a cosa Dove lo shop Eccolo qui Oh Devo ammettere che Allora intanto Questa challenge Se L'avevo persa Tempo fa Mi chiedo proprio come Perché è veramente Facile Blu map Va bene Un'altra bomba Quello è inutile Mums key Quello è già molto più utile Quindi una moneta Per favore O anche un paio di bombe Che magari nella secret room Riesco a trovare qualcosa di figo Ok Questo Promette Prometteva bene Ok Gurdie Gurdie è easy Gurdie che spawna Quindi posso anche Rimanere qui A tencare Come lo schifo Ok Ovviamente Stando attenti A non subire danni Stupidi Però ne dubito Fortemente A quanto pare La cap Questa è sempre Una cosa buona Sinceramente Andrei un attimo Ad esplorare Per almeno Uno monetino O un paio di bombe Qua Beh oddio Magari Subito Yes Yes Ok direi Che Mums key Sia sempre Una buona scelta Ok Comunque si Spero anche che Voi chiediate Più Anche più Nuclear Tron O anche altri giochi Ovviamente Non c'è solo Nuclear Tron Che vorrei portare Anche un po' di più Ci sarebbe anche Attenzione Ci sarebbe anche Enter the Gungeon Che Sinceramente Un po' di voglia Di ritornare Seriamente Su quel gioco Ce l'ho Di voglia Devo ammettere Che è veramente Un gioco molto divertente Nonostante La cosa bella Di Di Nuclear Tron Rispetto ad Enter the Gungeon È il fatto che La maggior parte La maggior parte Dei casi Le run di Nuclear Tron Sono parecchio Lente E corte Rispetto a quelle di Oh aia Rispetto a quelle di Appunto Enter the Gungeon Che possono anche durare Un'ora O anche di più Che Oddio Non può essere una cosa Non è sempre una cosa Negativa Però Lo può essere In molte occasioni E sinceramente Vorrei tanto Cioè anche perché Dato che un'ora Di registrazione Ogni volta Può essere Veramente pesante Vorrei come dire Trovare Cioè Vorrei proprio Trovare un accordo Appunto con Enter the Gungeon Ok Credo di essere Abbastanza a posto Ciao Tizio esplosivo Molto simpatico Ok Attenzione Aia Senti Tizio Che spara cose rosse Ah E inoltre Un'altra cosa In questo periodo Come potete Anche vedere Sto Promuovendo Un sacco lisa E quindi Molte giornate In cui Ci dovrebbero essere Altri giochi Qualcosa del genere In verità Alla fine poi Non metto nulla Se voi non siete Non siete fan del gioco E prima di tutto Vergognatevi Perché è un gioco fantastico Probabilmente Se non sbaglio Se i miei calcoli Sono tutti giusti Mercoledì Sarebbe uscito L'episodio Dove vado Dalle api Che Se avete visto già il video È stato abbastanza figo Inoltre ho esplorato Anche un po' La nuova zona Quindi Se Se siete Ah porca miseria Se siete Interessati in giochi RPG L'isa È proprio fatto per voi Nonostante Come dire È un po' Come dire Esagerato E crudo Crudo Nel senso Che tipo È carne Cruda Sono molto spiritoso E muori Grazie Ma Intendo Ovviamente È molto Molto Come dire Pesante La storia è molto pesante Nonostante In questo momento Nel gioco Siamo In una Possiamo dire In una zona di Continue battute E magari un paio di cose inquietanti Un po' Giù di lì Però Niente di troppo allarmante Però Fidatevi Che le cose Inizieranno a diventare Molto Molto Peggio È solamente Questione di tempo Ok GG Non ho bombe Stiamo attenti Nel non fare errori Stupidi errori Ok Sarebbero fantastiche Sarebbe fantastico Attenere due bombe Oh Ho sentito una troll bomb Che peccato Però Ehi c'è una shop qui Humble bundle Humble in bundle Lo chiamo sempre Humble bundle Anche se sbaglio Ok Come mai sappiamo ora Anche La posizione Perché ora Ah Sono stupido Come mai ora So anche la posizione Cioè Suppongo che sia Per il liberty cup Però accidenti Se È prolungato L'effetto Vabbè Vabbè Aia Vabbè Ormai Ah Ti odio Ok Ok Cuori Grazie Eh Facciamo Che Combattere subito Il boss Ok Molto bene Ah Porca miseria Ok Avrei dovuto Far esplodere La tinta Ah Giusto Con quali bombe Mi servirebbero Un paio di bombe Eh Gioco Ehi Però Ehi Almeno Mi ha dato un orbital Ehm Ormai abbiamo perso Ovviamente Il patto con il diavolo Quindi direi Che forse è il caso Di Subire un po' di danno Ed entrare Nella curse Per un Per un bel niente Meno male che Non ci avevo perso Il patto con il diavolo Qui Sarebbe stato Alquanto fastidioso Oh no Ho subito danno Che Disdetta E direi di Andare avanti Con Potrei fare una cosa Molto Molto Buffa Sono un genio Potete Potete continuare A chiamarmi genio Non mi importa E abbiamo anche Ottenuto Un oggetto attivo Che non è neanche Niente male Bup Temperance Ma grazie eh No ma no Non dovevi essere così eh Inoltre non voglio Temperance Voglio Ah ma chi se ne frega Tanto ho quasi sempre Il full mapping Cosa Cosa posso Cosa posso Servirmi A fin Dei conti Ok Abbiamo quasi raggiunto La meta Ci manca Veramente poco Allora Prima di tutto Perché vado in stanze Che so che non Non servono a nulla Ah ma chi lo sa Ok Molto bene Bam E Bam Ok Ovviamente Oh grazie per tipo Sei bombe Nonostante prima Te ne chiedevo solamente una Ora me ne dai sei Cioè non che mi lamenti Non che mi stia lamentando Anzi Però Come dire Non è affatto carino Quello che hai appena fatto Anche questo è stato per niente Carino Anzi Lo odio Approfondamente Lo odio profondamente Vabbè Yolo ormai Tanto non è che possa succedere Mol Qualcosa di tremendo O di tremendamente Tremendo Cioè Si Potremmo morire Ma ne dubito fortemente Tanto Sembra che stiamo Recuperando Sembra Di stare recuperando salute Anche in un Con una velocità Al quanto frequente Guardate Sono già di nuovo Full vita Cioè Cioè Non per fare lo sporone Ma Sembra che Sono pieno di vita Forse hanno Cambiato l'effetto Di Liberty Cup Che ora ti permette Di vedere La stanza sempre Non credo Però Se è così Mi sono perso Questa cosa Questa aggiunta Anzi Perché se non sbaglio Liberty Cup Cioè Ti lo faccia vedere Per una stanza Ma poi Bam Ok Compra tutte le cose Che costano poco Fai anche questo Compra anche la carta Judgment Ok Puoi tornarmi utile Ok Grazie per tutti i soldi Eh Thanks for Anche di comprare Anche di comprare Questo Eh Direi di portarmi Dietro la Bibbia Tanto a quanto pare Di patico Ne diamo Non ne otterremo Quasi mai E anche se Le ottenessimo Avremo un sacco Di salute Da spendere Quindi ci teniamo La Bibbia Così possiamo One shotare Sia la madre Che il cuore Aia Ok Berserk Aia Vai Bomba Ok Ehi Che ne dici Di combattere Queste Dei darmi Un pezzo Della chiave Per avere Più possibilità Di patico Gli angeli Come hai fatto A non farmi male Sei una mezza sega Suppongo Ok Ora ovviamente Speriamo Aia Speriamo di ottenere Nonostante Le basse probabilità Speriamo di ottenere Un Fatto con il diavolo O con gli angeli Entrambi Sono alquanto fighi E Addio Ma certo Che faccio Delirium Ma puoi Sciucchiarmelo Tutto Vediamo cosa abbiamo qui Niente di che Ok Prossimo piano E penultimo piano Ok Ehm Probabilmente sopra Ehm Come faccio questa Ah ok Una bomba Grazie a dio Se non Avesse una bomba Questa stanza Poteva essere Un grosso problema Ok Forse ne vale la pena Perchè Umanski Però non ho voglia Di fare la stanza Questo è il secondo fatto Cioè Produttivamente Sarebbe una buona idea Ma poi Ma poi In tutta franchezza Non c'ho voglia Ok Ora Stiamo attenti A non perdere Questo mezzo Spirit Heart Altrimenti Saremo di nuovo A rischio Niente Niente patto Con il diavolo Slash angeli Ok Ok Non continuate a scappare Dovreste rimanere bloccati Ecco Tipo lui Tipo sto tizio Questo tizetto qui Ok Ehi Ciao amico Sono pronto a donarti Il mio patrimonio Cosa è? Joker Oh questo mi piace E anche questo qui Dai Joker Lo possiamo utilizzare Poi dopo Nel prossimo piano Ok Ho probabilmente In questo piano Se non sto attento Ok Ora Chi combatteremo? Scolex Ok Scolex Forse non è così Tanto difficile Ok Versione Nera Oh ehi Ciao Ah oh mio dio Non mi ricordo Cosa cambia Con la versione Nera E non dite Che lo rende Più fastidioso Perché io Non ci credo Ok No Eh Uh Sei veramente gentile Mostrami così tante volte Il tuo bel culo Il tuo bel gulo Sexy Ok Forse è Il champion Che mostra solo il culo Ok Manca ancora poco Forse Yes 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 Farrei tanto prendere Il coso della Dei pink floyd Però è decisamente Molto meglio Quest'altra Oh grazie Ah Dannazione Mi hai fregato Ok Mo con Calma E sangue Ah ti odio Volevo dire Con calma E sangue freddo Non è importante Voglio solo il pezzo Della chiave Grazie mille Voglio anche il mezzo cuore Ancora Grazie mille E abbiamo ottenuto Due spirit heart Stiamo quasi per raggiungere La fine di questa Pazza avventura Questa bizzarra avventura Di Isaac Curse of the lost Modo migliore Per finire l'episodio Vabbò Seraphim Suppongo Ora possiamo Yes Sparare qualcosa Non era esattamente Quello che avrei voluto Ok Vabbè pazienza Ora spero solamente Aia Vabbè Anche se perdessi Le possibilità di Batto con il diavolo O slash angelo Anzi in questo caso Angelo Non credo sia Un grosso problema Un bel emperor Hermit Hermit la rana Ciao Io sono Hermit la rana Sono Sì Che Hermit la rana Diventa monaco Hermit la rana Quando crei battute Divertenti Ma ti rendi conto Che quasi nessuno Qui conosce i Muppets Almeno Quasi nessuno Secondo me Qui conosce i Muppets show Alzate la mano Se voi Seguivate O conoscete I Muppets show E anzi Aumentiamo Aumentiamo La Le condizioni Ditemi Se voi Avete mai Visto Supergulp Ne avevo già Per Questo sono sicuro Al 100% Di averne già Parlato Sul canale Della figaggini Supergulp Per chi Appunto Perché Molto Molto Cioè in verità Era anche Era anche Vecchio per me Ma Me ne sono visti Poi Perché Devo ammettere Sono delle perle Sono delle piccole perle In pratica Per chi non lo sapesse Supergulp E' un Aia E' un Neanche un cartone animato Ma è un Sono dei Cartoni Dei fumetti Che però Sono Animati E doppiati Tutto qui Ed è fantastico Però E' fatto veramente bene Io mi ricordo ancora Cos'era Nick Carter Si E sei sempre stato tu Stanislaw Moniski Con uno dei tuoi Diabolici Travestimenti Ebbene zi Maledetto Garder No Ebbene si Maledetto Ecco Ebbene si Maledetto Carter Mi hai scoperto Anche questa volta Dice Dice il saggio Tutto è bene Ciò che finisce bene E l'ultimo Chiuda la porta Slum Mamma mia Bei ricordi Bei ricordi Vabbè comunque Direi che per questo video È tutto ragazzi È stato un video Abbastanza corto Mi piace questo Il fatto che Questi video di Isaac Che sono diventati Abbastanza corti Almeno Quelli che sono Arrivati in questo periodo Sono tipo Una ventina di minuti Quindi non è tantissimo Vabbè comunque Direi che per questo video È tutto Quindi Vi chiedi lasciare un bel Mi piace Commentatevi Iscrivetevi al mio canale Se non vi è piaciuto Iscrivetevi a tutti Gli altri canali correlati Quando vedete il video Se vi è piaciuto Mi raccomando Ovviamente Come al solito Discord Twitter E domani GoVeisac Amino Tutti in descrizione Oh mio dio Sono riuscito a dirgli Senza sgarrare Oh mio dio Sono un genio Ci vediamo nel prossimo video ragazzi Un saluto salato E ciao Ciao